Si corre oggi a Silverstone in Gran Bretagna il tredicesimo appuntamento del Moto Mondiale 2014. Ieri le prove ufficiali per stabilire la griglia di partenza con il solito Mark Marquez in pull position. A contendere che la vittoria ci sarà la Ducati di Andrea Dovizioso con il secondo tempo e la Yamaha di Jorge Lorenzo terzo. Valentino Rossi delude con il sesto tempo. Partenza alle 14, ora italiana. Grazie.